Il gol con il primato italiano sui sessanta metri, Michael Goli! Corsia 3 e 3, USA, King Rickson! Corsia 4 e 4, da Antino Bernadini! Corsia 5 e 2 volte il campione italiano, Jacques Riparelli! Corsia 6 e 6, da Caiman, già andato sotto i 10 secondi, Caiman-Caiman! Corsia 7, oro alle staffette mondiali alle Pamas, 2014, Jamaica, Julian Forte!